Il Vangelo di Didima Tommaso, cioè San Tommaso, insieme a Pietro il discepolo di letto di Gesù, Pietro per la fedeltà e Tommaso per la curiosità intellettuale, è un testo sommariamente definito apocrifo dalla Chiesa. È immensa la costellazione degli scritti apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa. Tra essi ci sono gli scritti di Nag Hammadi, in Egitto, ritrovati da un contadino che scavando nella terra ritrovò due anfore piene di scritti. Fatte le prove al carbonio sono effettivamente risalenti, queste carte, ai tempi di Gesù. E pensare che circa un terzo di questi scritti fu bruciato dal contadino ignaro, per riscaldarsi. Vi è da dire che su questi specifici ritrovati la Chiesa ha sempre taciuto. Non ha mai detto sì, e non ha mai detto no. Varie peripezie hanno accompagnato alcuni di questi ritrovamenti, degnamente come un giallo di Hitchcock. In sintesi sono largamente corrispondenti ai quattro Vangeli canonici, ma presentano, per il resto, aspetti aggressivi ed illuminanti, rispetto soprattutto ad una visione molle e cedevole di Gesù. Cosa a dire per fare un esempio? Ecco Gesù dice ama il tuo amico come te stesso nei Vangeli di Nag Hammadi, e mai dice ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù quindi dice di amare il prossimo indeterminato, ma fino a un certo punto. Solo gli amici, in quanto costantemente prossimi, vanno amati come se stessi. Ma ecco gli ultimi versetti del Vangelo di Sant'Ommaso, tratti da una buona fonte, ma ricordiamo che l'ultimo paragrafo, quello in cui i discepoli invitano la Madonna a lasciarli soli con Gesù, manca, vabbè, ne riparliamo in un prossimo video. Ecco dunque gli ultimi paragrafi del Vangelo di Didima Tommaso, Sant'Ommaso discepolo. 102. Gesù disse, maledetti i farisei. Sono come un cane che dorme nella mangiatoia, il cane non mangia, e non fa mangiare il bestiame. 103. Gesù disse, beati quelli che sanno da dove attaccheranno i ribelli. Possono organizzarsi, raccogliere le risorse imperiali, ed essere preparati prima che i ribelli arrivino. 104. Dissero a Gesù, vieni, oggi preghiamo, e digiuniamo. Gesù disse, quale peccato ho commesso, o di quale impurità mi sono macchiato. Piuttosto, quando lo sposo lascia la camera nuziale, allora lasciate che la gente digiuni e preghi. 105. Gesù disse, quando farete dei due uno diventerete figli di Adamo, e quando direte montagna, spostati, si sposterà. 107. Gesù disse, il regno è come un pastore che aveva cento pecore. Una di loro, la più grande, si smarrì. Lui lasciò le altre 99 e la cercò fino a trovarla. Dopo aver faticato tanto le disse, mi sei più cara tu di tutte le altre 99. 108. Gesù disse, chi berrà dalla mia bocca diventerà come me, io stesso diventerò quella persona, e tutte le cose nascoste gli si riveleranno. 109. Gesù disse, il regno del padre è come una persona che aveva un tesoro nascosto nel suo campo ma non lo sapeva. E quando morì lo lasciò a suo figlio. Il figlio non ne sapeva nulla neanche lui. Diventò proprietario del campo e lo vendette. L'acquirente andò ad arare, scoprì il tesoro, e cominciò a prestare denaro a interesse a chi gli pareva. 110. Gesù disse, lasciate che chi ha trovato il mondo, ed è diventato ricco, rinunci al mondo. 111. Gesù disse, i cieli e la terra si apriranno al vostro cospetto, e chiunque è vivo per colui che vive non vedrà la morte. 111. Non dice Gesù, di quelli che hanno trovato se stessi, il mondo non è degno. 112. Gesù disse, maledetta la carne che dipende dall'anima. Maledetta l'anima che dipende dalla carne. 113. I suoi discepoli gli chiesero, quando verrà il regno. Non verrà cercandolo. Non si dirà guarda, è qui, oppure guarda, è lì. Piuttosto, il regno del padre è sulla terra, e nessuno lo vede.